Roberto, quindi siamo qui per parlare di lenti ortokeratologiche, in che cosa consistono? Consistono in un trattamento notturno con delle lenti semirigide. Applicando la lente tutte le sere prima di andare a letto, la mattina posso togliere le lenti a contatto senza utilizzare né occhiali né altri tipi di lenti a contatto, vedere tutto il giorno. Un sistema innovativo non tanto, visto che sono tanti anni che vengono utilizzati in altri paesi, ma che anche qui finalmente stanno prendendo piede. Io ho tanti colleghi che fanno ormai queste applicazioni da oltre dieci anni, così come qui da noi dal 2017 che applichiamo questo tipo di lente, con un discreto successo perché ad oggi il risultato è ottimo, soprattutto quando abbiamo a che fare con giovani miopi. La cosa positiva è poter rallentare il peggioramento miopico se non addirittura fermarlo, perché in termini percentuali il successo di blocco della miopia è abbastanza elevato, ma soprattutto dare ai giovani miopi o comunque ai miopi in generale la possibilità di vedere a 360 gradi tutto il giorno senza nessun tipo di ausilio visivo, quindi né occhiali né lenti a contatto. È una lente che appunto fa un trattamento di schiacciamento sulla cornea, quindi sostanzialmente noi andremo a creare su una cornea standard un appiattimento, come se fosse un intervento chirurgico senza fare un intervento chirurgico, quindi lo stesso effetto del laser, con la differenza che possiamo, una volta smesso il trattamento, tornare alla normalità della cornea. Ecco, allora perché un ragazzino o comunque un adulto dovrebbe prediligere questo trattamento di questa lente anziché l'operazione? Prima di tutto il giovane miopi, stiamo parlando quindi di ragazzini di 12, 13, 14, 10 anni che sia, ancora non sono operabili. Quindi il trattamento ortocratologico potrebbe far sì che lo stesso ragazzino che oggi ha ipoteticamente una miopia di meno 2 possa arrivare in età operabile comunque con una miopia di meno 2 o che sia di 2,25. Un ragazzino che oggi ha 6, 8 anni e ha una miopia di meno 2 si presume che a 18, 22, 25 anni in età operabile non abbia più meno 2 ma abbia anche meno 5. Quindi riuscire a rallentare il peggioramento miopico oggi vuol dire poi affrontare un domani un discorso chirurgico con dei numeri diversi. Dal 2017 ad oggi come si sono trovati coloro che sono sottoposti a questo trattamento? Allora sicuramente il boom negli ultimi due anni dal 2020 post pandemia insomma ad oggi la percentuale è altissima di successo nel senso che sono quasi tutti ragazzini che vanno tra i 10 e i 15 anni nessuno ha avuto problematiche di rigetto né tanto meno fastidi da non poter continuare il trattamento e tutti ancora oggi vanno avanti senza occhiali e senza lenti a contatto quindi estremamente soddisfatti perché comunque possono fare sport comunque possono andare a scuola il problema dell'occhiale con la mascherina in questi anni loro non l'hanno vissuto perché andavano tranquillamente a scuola con la mascherina ma senza necessità di utilizzare lenti a contatto occhiali quindi assolutamente un ottimo successo e una percentuale altissima di risultati ottimali. Questo trattamento può essere rivolto a tutti oppure no? Il trattamento che utilizziamo noi che è il trattamento Paragon CT è rivolto esclusivamente ai soggetti miopi dai 0 a meno 6 sostanzialmente più è bassa la miopia e sicuramente maggiore la percentuale di successo e anche la facilità di trattamento maggiore sarà la miopia e più lungo sarà il trattamento però fondamentalmente da 0 a meno 6 si dovrebbe riuscire a trattare senza grosse problematiche però è ovvio che è sempre tutto soggettivo bisogna prima essere sottoposti a tutta una serie di analisi qui da noi dove valutiamo lo spessore della cornea valutiamo il tipo di cornea dopo si decide se procedere o meno grazie a tutti Grazie a tutti.